eccezionalmente riprendiamo la diretta riprendiamo la perché prima c'era un problema sulla linea ma soprattutto perché mi hanno scritto per capire meglio che cosa intendevo del molise allora voglio essere preciso perché è giusto essere precisi allora vi spiego cosa succede quando si vota alle regionali in italia si vota a turno unico significa che si fanno le elezioni regionali e si vota a turno unico allora guardate questo è il sondaggio fatto da politics ultimora net sulla regione molise sondaggio regione molise centrodestra 50.1 centrosinistra quindi in realtà movimento 5 stelle che è la lista più forte del molise più pd tutti gli altri specifica eccetera 47,3 cosa significa che praticamente il centrodestra che è uscente c'è governa la regione molise ha molte possibilità di perdere quella regione se tutte le forze decideranno di mettersi insieme al movimento 5 stelle sostenere un candidato del movimento 5 stelle quindi la sfida è il candidato scelto il movimento 5 stelle ancora non l'hanno scelto quindi io spero che conte e il movimento 5 stelle decidano di calare una candidatura importante lo poi c'è stato un tavolo regionale sono messi d'accordo hanno parlato di tante cose ma è fondamentale che cosa capire come sono i sistemi elettorali il sistema elettorale funziona così si va al voto nelle regioni chi prende anche un solo voto più dell'altro vince quindi non c'è ballottaggio se ci sono 3 4 candidati uno che prende un voto in più diventa presidente della regione perché il molise che è pure una regione piccola e importante perché sarebbe dopo anni la prima regione che da destra passa al c'è all'area progressista perché adesso in fruli venezia giulia ha vinto la destra in lombardia scandalosamente ha rivinto il presidente di destra nonostante i disastri del covid in nel lazio la destra ha preso una maggioranza assoluta e ha vinto la le elezioni e prima ancora la destra aveva conquistato la regione marche che non era mai stata cioè almeno credo mai stata di cento destra l'umbria che non era mai stata di cento destra prima ancora ha preso la liguria che non era stata di cento destra prima ancora la calabria quindi la lucania la basilicata non era mai stata di destra quindi che cosa succede l'abruzzo stesso è stato a volte di destra volte di di centro sinistra allora adesso bisogna capire che loro stanno governando tra l'altro male perché in umbria ecco adesso vedo che daniela dicevo in umbria in umbria sono disperati perché il governo della lega in umbria è un governo veramente scadente e dire scadente dire poco allora se noi vediamo il risultato adesso di questo sondaggio sul molise noi capiamo che cinque stelle una coalizione a guida cinque stelle di centrosinistra può vincere e togliere la prima regione alla destra poi bisognerà togliere le altre bisogna togliere la sardegna bisogna togliere le altre regioni perché 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 così è la logica non possiamo rassegnarci avere un governo di destra quanto deve durare vent'anni trent'anni quanto deve durare allora bisogna creare una vasta area oggi la vittoria a udine del candidato civico un rettore bravissimo per bene contro la destra ha strappato udine alla destra dopo due settimane che il fruli venezia giulia aveva vinto la destra regionale raddoppiando i voti del dell'avversario che era un avversario unitario di tutti il movimento cinque stelle e altri allora noi dobbiamo capire che bisogna scegliere zona per zona un'azione coraggiosa per battere la destra questo vale anche al parlamento europeo perché le destre si stanno organizzando a livello europeo per prendere la maggioranza del parlamento europeo per indicare la commissione altro che pensare che ci portano verso l'ecologia questi se vincono anche al parlamento europeo ci portano verso il disastro ci portano verso una scelta folle altro che i diritti civili ius soli eccetera ma ce li sogniamo allora avete capito che bisogna essere attivi su questo avete capito che bisogna aiutare tutti quelli che stanno lavorando per organizzare a cominciare da conte una vera grande area progressista e ambientalista come lui l'ha definita quando uscì da palazzo chigi qualcuno se lo ricorda ma qualcuno si ricorda conte quando è caduto il cosiddetto conte due ve lo ricordate o no no secondo me alcuni non se lo ricordano alcuni sì alcuni no allora conte uscì da palazzo chigi prese un banchetto e parlò di fronte a palazzo chigi cosa disse era stato appena cacciato via per colpa di renzi e degli amici di renzi e di quella gente che non sopportava un presidente del consiglio indipendente da lobby nazionale e internazionale cioè da chi da chi vuole farsi gli affari suoi sempre conte ha un grandissimo pregio è arrivato alla politica per una serie di circostanze che possiamo considerare anche particolari perché ovviamente lui è stato di di mediazione diciamo tra cinque stelle e lega ora siamo riusciti ad avere un presidente per bene che ha lavorato bene quando è uscito da palazzo chigi cosa ha fatto ha detto bisogna creare una grande area progressista e ambientalista questo ha detto su questo bisogna lavorare perché sono una grande area progressista ambientalista dei diritti liste civiche di persone per bene persone corrette indipendenti può battere la destra ma soprattutto convincere i cittadini andare a votare perché il problema di fondo è che la destra vince perché la gente non vota più perché c'è l'assenzione drammatica a roma la destra ha vinto certo ma a roma città ha votato il 35 per cento un cittadino su tre nella capitale d'italia non sono andati a votare e non è che è una zona dove non sono abituati alla politica perché da da secoli avanti cristo che i cittadini di roma eleggono in un modo nell'altro autorità politica quindi stiamo parlando di una zona fortemente politicizzata non è che un paesino di una montagna dove si scocciano di votare roma è la capitale d'italia e non vanno a votare in fruli venezia giulia non sono andati a votare vi è chiaro che sta succedendo in tutte le elezioni si va a votare meno del 50 per cento signori sono scocciati che non hanno motivo di andare a votare che la proposta che si presenta è inadeguata e soprattutto quelli progressisti pensano che poiché gli altri sono di progressisti sono tutti sparfagliati e sfrantumati vince comunque la destra ed è inutile andare a votare è chiaro che succede o non è chiaro allora è inutile lamentarsi dice alla destra non va bene se non ci si muove con intelligenza e non si è capaci di batterli allora zitti è inutile lamentarsi chiaro allora tina dice conta ci ha portato una monta a testa alta perfetto tanto è vero che nel sondaggio che vi ho fatto vedere in giorni scorsi in cui si chiede chi è stato il miglior presidente del consiglio dal 92 quando è iniziata la cosiddetta seconda repubblica il 47 per cento degli italiani 47 per cento degli italiani dice conta poi che se adesso dice il vero responsabile del conto del pd ed alcuni che hanno votato ma certamente ma è altrettanto vero che oggi bisogna obbligare il pd e tutti i progressisti a sostenere conte perché hanno capito che hanno fatto cadere conte che qualche risultato hanno avuto hanno avuto il risultato che hanno vinto hanno avuto il risultato che è andato al potere la destra no e allora anche quelli che si erano rincoglioniti pensando e facendosi carichi più dell'odio verso conte che non della capacità di lucidità verso il futuro vanno presi come dire simbolicamente a schiaffoni e riportati a capire che bisogna votare per un cambiamento vero che poi è stata l'origine diciamo dei primi risultati del momento 5 stelle momento 5 stelle è nato perché ha voluto dare un segnale forte contro una modalità sbagliata oggi il movimento 5 stelle per primo e poi gli altri devono affidare a conte la capacità di ricostituire una coalizione perché dico conte non la slani perché la slani purtroppo ha vinto un'elezione dentro un partito che però è pieno di correnti in rissa tra loro e non riesce a esprimersi nemmeno sugli inceneritori o su un tema come la guerra se su quella cosa la segretaria è tra virgolette prigioniera significa che di positivo c'è che lei è più favorevole a sostenere i 5 stelle a fare in modo che questo non può essere che positivo ma è conte il più popolare il più popolare è quello che può prendere i voti se lo candidiamo a presidente del consiglio di una coalizione larga e giuseppe conte ad oggi ad oggi è lui ad oggi è lui tanto per essere chiari quindi lo stracismo delle televisioni normale ma lo stracismo delle televisioni c'era anche contro il momento 5 stelle quello e c'era anche contro conte in modo brutale prima delle elezioni politiche eppure conte è andato bene siamo andati bene quindi significa che le televisioni continuano a martellare ma assolutamente noi dobbiamo continuare a diffondere a parlare soprattutto a quelli che non la pensano come noi cosa che vi dico sempre bisogna parlare con quelli che non la pensano come noi non solo parlarsi tra tra gli stessi è inutile non si cambia e non si vince se si parla sempre tra quelli che la pensano uguale bisogna martellare rispetto ai cittadini che oggi sono già delusi e desolati perché alcuni hanno votato credendo che la destra riduceva le tasse il disastro adesso taglieranno i fondi alla sanità stanno cercando di fare un'autonomia differenziata massacrando il mezzogiorno d'italia e le realtà più piccole del nord del centro del sud quindi su queste cose bisogna essere tenaci forti e determinati ecco io ho voluto riprenderla diretta per darvi un segnale innanzitutto di spiegare perché bisogna spiegare e vi rifaccio vedere un'altra volta il sondaggio sondaggio regione molise che dite a questo sondaggio il sondaggio di 50,1 ancora il centrodestra che però sta governando quindi è potente ed è al massimo della sua forza in genere in Italia tutta l'altra area il 47,3 poi c'è stazione Italia dei Valori ma non ne parliamo perché questi stanno facendo una figura veramente surreale allora il problema infatti il problema non è seguire il PD il problema è farsi seguire dal PD chiaro quindi nel Molise non è il problema che dovete seguire il PD nel Molise i candidati migliori c'era il Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle ha degli ottimi consigli regionali il Movimento 5 Stelle ha il sindaco di Campobasso che è super stimato il Movimento 5 Stelle ha altre personalità che Conte può individuare allora il Movimento 5 Stelle propone un candidato presidente e chiede e pretende dal PD e dagli altri il sostegno questo si fa questo si fa per vincere questo si fa non è che si fa altro si fa questo se uno vuole battere la destra se uno vuole dice no io me ne frego di battere la destra resto solo e perdo e allora non è utile ai cittadini agli elettori perché tu allora prendi in giro i tuoi elettori gli dici venite venite alla battaglia e poi perdi tutte le elezioni e secondo voi dopo la prima la seconda la terza ma chi ti vota più vi è chiaro o no i sistemi maggioritari sono fatti in modo tale che chi prende più voti vince vi è chiaro mentre sul proporzionale l'europea dell'anno prossimo allora ognuno si candida fa una lista ci sono le preferenze e ognuno è libero di votare non c'è bisogno di allearsi ma se c'è un sistema elettorale di alleanze non essere capaci di imporre dei candidati autorevoli del Movimento 5 Stelle per creare l'alternativa significa che uno si è autocondanna alla marginalità e questo non è giusto chiaro poi chi la può pensare come me e chi contro di me uno può pensare pure che preferisce fare l'opposizione per tutta la vita io non ho mai pensato così sono stato sempre molto rigido sui miei temi ma ho sempre cercato nelle coalizioni di imporre delle scelte si faceva una coalizione noi imponevamo che volevamo mettere le energie rinnovabili davamo una mano solo se si faceva quello e io da ministro sono riuscito a imporre le energie rinnovabili a togliere i soldi a quelli dei fossili cose che pochi altri sono riusciti a fare dopo di me allora significa che se tu hai la serietà e la durezza delle posizioni vieni anche attaccato io sono stato massacrato perché ho tolto i soldi dei petrolieri e li ho date alle rinnovabili perché sono stato rigoroso sui temi essenziali sull'ambiente perché ho tolto ho negato agli americani di mettere gli OGM in Italia dicendo io non sono contro ma sono dalla parte di quegli americani che preferiscono mangiare sano perché ci stanno pure là le persone vogliono mangiare sano e oggi come oggi noi dobbiamo mantenere questa posizione questo deve fare con rigore io vi faccio il caso del Molise perché la prima regione che si può strappare alla destra e invertire la tendenza non possiamo dare un segnale ai cittadini che tutte le elezioni che facciamo e come dire alla fine le vince sempre la destra ma secondo voi è normale e molti non hanno mai votato la destra Francesca ma anche io non ho mai votato la destra ovviamente però sempre cercato anche di batterla quindi una cosa è non votarla e già questo è importante per uno che si sente progressista ma l'altro passaggio in più cerchiamo di batterla e di vincere noi e di farli tornare all'opposizione così giustamente in modo democratico con il voto ma per avere questa possibilità in ogni elezione c'è un modo diverso di organizzarsi alle regionali c'è il turno unico quindi il primo che passa vince quindi bisogna decidere subito un candidato o una candidata per vincere e battere la destra alle comunali c'è il doppio turno quindi a volte puoi anche andare diviso al primo turno se non trovi l'accordo e poi vuol dire che al secondo turno chi va meglio cerchi di concentrarti sempre contro la destra una sorta di alleanza di secondo turno all'europeo non c'è bisogno cerchi di fare delle liste molto larghe cercando di vincere perché anche al parlamento europeo c'è il rischio che vincano le forze di destra in europa e ci impongano normative di destra come direttiva europea una catastrofe anche quella drammatica va bene questo vi voglio spiegare e questo voglio che voi spieghiate perché dobbiamo essere dei cittadini consapevoli informati non dei ventecatti che parlano a bambera perché parlano a bambera alcuni politici parlano a bambera anche tanti cittadini perché se no secondo voi come caspita ha vinto la destra se non ci sono cittadini che sparano fessarie e non si rendono conto che bisogna essere capaci di proporre cose serie e di vincere le battaglie ecco io questo vi chiedo essere capaci di diffondere elementi chiari quando vi ho ricordato conte sul tavolino fuori palazzo chiggi quando era stato fatto fuori il conte bis da renzi da quest'alti renzi adesso avete visto la forza italia ha detto se vuoi venire a fare il soldato semplice che noi non abbiamo bisogno di generare pensate questo come è stato presente il consiglio cioè si fa trattare in modo proprio perché perché non sono capaci di recuperare un minimo di discussione politica si stanno insultando con calenda in modo veramente surreale non c'è uno straccio di motivazione politica nelle cose che fanno assurdo assurdo e conte detto un'azione di dignità uscendo da palazzo chiggi tra gli applausi dei dipendenti di palazzo chiggi dicendo io mi metto al servizio non era rancoroso avrebbe avuto motivi di essere incazzatissimo e invece ha detto guardo avanti voglio realizzare una grande alleanza progressista e ambientalista io sono a sossegno di quel conte là il conte che non solo è riuscito a governare bene ma vuole rilanciarsi in positivo ed ecco perché come dice carlo che conviene con me il movimento 5 stelle 2050 deve portare la guida di una coalizione tutte le forze politiche che possono creare un'alternativa credibile alla destra questo è quello che va fatto e questo è quello che vi chiedo di diffondere come messaggio condividete questa mia diretta condividete alcune cose lavoriamo con nettezza sapendo che non si vince in una settimana in un mese ci vogliono due tre anni probabilmente per costruire questa alternativa forte e riportare conte al conte terra ma per farlo nel frattempo se abbiamo una regione piccolina che è il molise dove i risultati sono 50 47 ore quindi e loro sono al governo e il centro-sinistra cose all'opposizione eccetera e il 5 stelle è il primo partito del molise alle ultime elezioni politiche nettamente il primo partito allora il primo partito abbia il diritto il dovere di fare un candidato una candidata e di chiedere a tutte le altre formazioni contrarie alla destra di sostenerlo questo è il modo di costruire una nuova coalizione io vi saluto e vi auguro una buona serata a tutti ciao ciao grazie a tutti